Nei supermercati di Sardegna, di Cagliari e Pirri ti portiamo la spesa al tuo domicilio. Chiama o manda un sms o whatsapp al numero 379 1809 494 o invia una mail a ordini online chiocciolasoprasardissimi.it. Per le spese superiori a 25 euro la consegna è gratuita. Paghi in contanti o con carte. Supermercati di Sardegna, un'isola di qualità per te.